fuori il primo, seconda opportunità per Majorano, buona la seconda, 33 Veneto sotto le plance, Majorano dall'angolo a segno buono il gioco sulla rimessa da parte di Venezia il taglio di Majorano, servita proprio Majorano passa dietro la schiena di Benko, bella iniziativa di Majorano che si costruisce da sola, ha un ottimo tiro e lo mette a segno Humana sempre più vicina al successo screen per Majorano, a segno Majorano e questo potrebbe essere davvero il canestro che chiude la partita